Ci troviamo davanti alla chiesa del Carmine, antica chiesa risalente al 1500, 1700, vabbè facciamo 1600 e non ne parliamo più, ma cerchiamo di capire quali sono i motivi del crollo, infatti è un patrimonio artistico che va perso. Ah, le chiedo scusa maresciallo, ecco, volevamo capire tu insieme ai nostri telespettatori quali sono state le cause che hanno determinato il crollo di questa chiesa, forse un bombardamento o un terremoto o un cedimento strutturale? No, 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 questa è stata un'attrice storia, diciamo, quel giorno il prete aveva mangiato i fagioli, come la mollata, un denaro. Grazie, è tutto a voi in studio, grazie.